Un canzario di Instagram, così, se poi lo vedi, lo vedi, il buono, non ti fa nulla, diciamo. Come ti viene mai? Mi sono a mezza. Sì, tanto ce l'ho io, è il filo, sono già la pazza al treno. 1 2 2 2 2 ma che vincontro 10 spatti falletti si pesce tutti i paletti in faccia stai io non mi sento tanto te d'argo gioco baggato e la cosa bella è che era pure posso dire impazzito lo stil c'era tutto il lato a destra ahhh 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 ahhhh qui a parli facile che sto ce l'ha sempre con me bambini non ci credi mi fai scontra perché l'ho trollato ancora qui aspetta un attimo ok a visti già finito e rimane qui che sta dando scosse per vedere se c'è qualcuno sarà quindi diciamo che come teoria ci può ancora stare perché alla fine vuole portare a casa una fila ma che palle sempre me quelli discorsi dai e mai davanti a me ce l'ho proprio davanti ecco c'è anche meglio ma ecco ma c'è la colla l'ho fatto l'ho fatto se tu vuoi venire vini ma ce l'hai davanti quindi vabbè non ci darei colpa io vai ahahah che mi piace guarda lo fa il taglio guarda lo fa il taglio guarda lo fa il taglio guarda sto stronza di merda tu Munich posto Ma mi rallenta la roba, si ma mi rallenta la roba, è quello il problema, vabbè son morto. Stai contento adesso? Beh, ma adesso che mi ha ucciso, spero di sì, che sia contento, vabbè.